Il frutto dello spirito è la purezza. Parte da questo concetto, padre Raniero canta la messa, nella quinta e ultima predica di Quaresima nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco e della Curia Romana. Il frate Capuccino ha esortato a ridestare nell'uomo innocenza e semplicità conservate nel cuore. La nuova evangelizzazione vive nel racconto del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, che nella vita di tutti i giorni della Chiesa si fa annuncio. Lo ha detto Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, che culminerà nella celebrazione della Pasqua, momento di evangelizzazione per eccellenza della vita cristiana. Si concludono oggi, 23 marzo, i lavori della riunione presinodale, cominciata lunedì in preparazione alla quindicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, in programma a ottobre. Dal confronto dei circa 300 giovani di ogni nazionalità, non solo credenti e provenienti da ogni parte del mondo, scaturirà il documento di sintesi che Domenica verrà consegnato nelle mani del Santo Padre. Siamo andati al Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesie, sede dei lavori, per raccogliere la testimonianza di alcuni giovani presenti. Anche quest'anno una quarantina di ragazzi di Roma e dintorni si sono preparati al Volest, esperienza di volontariato in Italia o all'estero, in Malawi, Romania, Tanzania. La proposta è del Centro Missionario della Diocesi di Porto Santa Rufina, per i giovani dai 18 ai 35 anni. Il frutto dello spirito è la purezza. È partito da questo concetto, Padre Raniero canta la messa nell'ultima predica di Queresima nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano alla presenza di Papa Francesco e della Curia Romana. Il predicatore della Casa Pontificia si è soffermato sulla dissolutezza sessuale messa in rilievo da San Paolo e alla quale l'apostolo contrappone l'arma della luce che è la purezza. La società contemporanea ha osservato in fatto di costumi e ripiombata in piena idolatria del sesso. Si distruggono famiglie con una leggerezza estrema, ha denunciato. È in atto non semplicemente una rivoluzione contro il passato, ma pure contro Dio e la natura umana. Le cronache quotidiane di scandali anche tra il clero e le persone consacrate ha evidenziato ricordano tale triste realtà. L'esortazione finale è stata a ridestare nell'uomo la nostalgia di innocenza e di semplicità. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto Matteo Fiorini e Enrico Carattoni, capitani reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, i quali hanno successivamente incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso vivo compiacimento per i costruttivi rapporti che uniscono la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, sottolineando il comune impegno a rafforzare la collaborazione bilaterale. È stato altresì riconosciuto il positivo contributo della Chiesa locale alla società sanmarinese, particolarmente in campo sociale ed educativo. Questo è il tempo opportuno per riconciliarci con Dio. Rimanere nella via del male è solo fonte di tristezza. L'ho scritto oggi in un tweet Papa Francesco. Nella prima domenica di Quaresima il Santo Padre aveva incoraggiato i detenuti a vivere il periodo quaresimale come occasione di riconciliazione e di rinnovamento della propria vita, sotto lo sguardo misericordioso del Signore che non si stanca mai di perdonare. Eccellenza, siamo in cammino verso la Pasqua, un momento di risurrezione, di evangelizzazione per eccellenza nella vita cristiana. In che modo il suo dicastero, che è lì in prima linea nel giubileo della misericordia, sta continuando nella semina dell'anno giubilare? Ma guardi, quello che noi vivremo nei prossimi giorni, il giovedì, il venerdì, il sabato santo, la domenica delle palme che ci introduce nella settimana santa, sono il cuore dell'annuncio del Vangelo, perché non fanno altro che esprimere il mistero pasquale, il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi la nuova evangelizzazione vive di questo racconto, di questa narrazione, che diventa però nella vita di tutti i giorni della Chiesa e soprattutto in questo momento della Pasqua, diventa nella sua espressività liturgica, quindi attraverso i segni, attraverso la preghiera, attraverso la liturgia stessa, si fa annuncio. E quindi lo viviamo con quella intensità che questi momenti richiedono, tenendo anche in considerazione di una cosa, soprattutto il venerdì santo, il giovedì il venerdì santo, sono dei momenti in cui la pietà popolare esprime al meglio la tradizione di come il nostro popolo nel corso dei secoli ha vissuto questi momenti, rivivendo gli attimi della passione. E quindi io credo che anche queste testimonianze e tutte queste realtà di nuova evangelizzazione non fanno altro che riproporre quello che è il cammino della Chiesa nel corso dei secoli. Noi siamo chiamati a inserirci in questo cammino e rivivendo questi, sia il momento liturgico che il più importante, sia i momenti della pietà popolare, facciamo dell'uno e dell'altro una viva esperienza di evangelizzazione. Si concludono oggi, venerdì 23 marzo, i lavori della riunione presinodale in preparazione alla quindicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, in programma a ottobre. Dal confronto dei circa 300 giovani di ogni nazionalità, non solo credenti e provenienti da ogni parte del mondo, scaturirà il documento di sintesi che domenica verrà consegnato al Santo Padre. La riunione presinodale era stata inaugurata lunedì scorso da Francesco, che in un lungo discorso ai giovani li aveva invitati più volte a parlare apertamente, usando nuovi sentieri. Siamo andati al Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesie, sede dei lavori, per raccogliere la testimonianza di alcuni giovani presenti. Sono Encolina, vengo dall'Albania, però vivo qua a Roma. Sono della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Donoreste Benzi e in questa riunione presinodale porto la voce delle ragazze sfruttate in strada, soprattutto quelle dell'Est. Io mi aspetto che ad ottobre viene preso in considerazione questo documento e da novembre in poi si mette in pratica tutto quello che è venuto fuori. È tutto da vedere, però sono molto fiduciosa perché Papa quel lunedì mattina si vedeva che aveva una fiducia in quello che doveva venire fuori. Lui si fida dei giovani, quindi sicuramente lo prenderà in considerazione. È stata sottolineata l'importanza proprio anche delle famiglie e di un accompagnamento che non sia individuo, cioè personale e comunitario e al contempo una voglia di mettersi in ricerca di forme nuove, cioè del uscire dal convenzionale per trovare nuove strade. Ecco, c'è stata una richiesta di formazione, cioè di percorsi di formazione anche su diversi fronti di, che oppure di aiuti proprio anche nel sapersi relazionare nei confronti di quelle realtà che possono essere positive o negative a seconda di come si utilizzano, come ad esempio i social oppure anche proprio nel confronto con altre realtà, con la diversità che ci circonda. A me piacerebbe che emergesse non solo la capacità di noi giovani di proporre, ma anche di spendere il nostro tempo per creare la chiesa che vogliamo, insomma, la nostra comunità. Una comunità che sa accogliere, che sa andare dove noi siamo, anche nei nostri luoghi di svago e saper raccogliere le diversità che ci sono dappertutto, qualsiasi diversità, saper raccoglierla. Da viaggiatori a volontari, da volontari a missionari. Si è appena conclusa la formazione del Volest, e cioè volontariato a estivo, una proposta del centro missionario della diocesi di Porto Santa Rufina, per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Circa 40 quelli che si sono preparati a una esperienza di volontariato, in realtà vicini a Roma e all'estero, in Malawi, Romania, Tanzania. Io sono stato in Malawi, in Africa, come missionario Fideidonum dal 2000 al 2009 e negli ultimi anni della mia permanenza abbiamo iniziato proprio questo servizio volontariato dei ragazzi. Penso nel 2007 iniziamo, poi pian piano, anche tornando, abbiamo strutturato ed è nato proprio questo percorso. Io sono partita nel 2016, sono andata in Malawi, in realtà sono partita senza avere proprio un motivo dominante, sono partita così allo sbaraio e sono tornata che la mia fede era completamente trasformata, rinnovata, accresciuta. E appunto, come diceva Don Federico, è proprio la povertà nella semplicità che si può riscoprire la fede, giù in Malawi ho trovato una fede che qui in Italia è difficile da trovare, proprio perché magari si è più attaccati alla ricchezza, alle cose materiali e che ti allontanano poi dalla verità. Invece, diciamo, in Malawi, attraverso la semplicità delle persone, la loro profonda fede sono tornata trasformata. Ho trovato, diciamo, che il Signore era lì, cioè tutti i giorni viveva accanto a loro e quindi quando sono tornata qui in Italia ho detto, mi devo mettere a servizio e devo far sì che i giovani che poi partono possano provare quello che ho vissuto io. Noi abbiamo visto che questo tipo di esperienza, per sua natura, è capace di sconquassare la vita di un giovane. All'inizio è un'emozione, un desiderio che si coltiva fin da bambini, poi si arriva e si viene travolti, sicuramente dalle emozioni, ma poi sono i pensieri, è una revisione della propria vita, è una revisione anche della propria idea della fede. L'incontro con la povertà offre una nuova visione nel mondo. Quest'anno i ragazzi, in uno degli incontri, hanno elaborato un'intuizione, l'hanno trovata ma poi l'hanno fatta loro. Cioè il mondo si può capire solo attraverso gli occhi dei poveri. I ragazzi arrivano per fare qualcosa, vogliono portare un aiuto, vogliono vedere il mondo e poi scoprono la povertà, il disagio a volte della miseria, ma trovano anche amicizie, una vita diversa, valori che sono perduti e soprattutto trovano Dio dopo averlo perduto nella loro vita in molti casi. Molte persone attraverso la povertà, attraverso la fede dei poveri riescono a vedere il mondo in una maniera nuova e in questo mondo riescono a vedere Dio. L'osservatore romano condata sabato 24 marzo 2018. Attacco terroristico in Francia, tre vittime a Carcassonne e nella vicina cittadina di Treb, ucciso dalle forze speciali l'assalitore che aveva dichiarato di appartenere all'ISIS. Decine di civili morti in Siria, tragic escalation del conflitto. La guerra dei dati, Zuckerberg convocato dal congresso, mentre lo scandalo rischia di arrivare anche alla Casa Bianca. Studentessa cristiana ancora detenuta da Boko Haram. Udienza ai capitani reggenti della Repubblica di San Marino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS